Ad oltre tre anni dal suo avvio, sabato 19 novembre alle 16.30, presso la sezione di archivi di Stato di Spoleto, si concluderà il progetto Dante nelle terre del Ducato, con la presentazione del catalogo dell'omonima mostra inaugurata il 25 marzo 2021. In quasi un anno e mezzo sono stati proposti e realizzati una serie di eventi incentrati sulla figura e l'opera di Dante Alighieri, che hanno evidenziato fra l'altro un'affezione molto diffusa nei confronti delle sommo poeta tra la gente dell'ex Ducato di Spoleto. Il catalogo, curato dal professor Rodney John Locai e dal dottor Luigi Rambotti, raccoglie tutte le tracce riconducibili a Dante, da una nutrita raccolta di frammenti della Divina Commedia, alle memorie e testimonianze rinvenute tra la documentazione d'archivio e alle preziose edizioni a stampa dell'opera dantesca presentate dalla Biblioteca Comunale Carducci. Il volume ricalca la struttura della mostra impostata su quattro temi, l'educato al tempo di Dante e di Luigi Rambotti, i frammenti della Commedia studiati e presentati da Rodney Locai, la singolare esperienza di un notaio nurzino dantista, oggetto del contributo di Maria Paola Bianchi, tracce e testimonianze dantesche nei secoli recenti di Paolo Bianchi. Quello emerso dalle carte umbre provenienti specificatamente da Norcia, Cerreto di Spoleto e Todi, come spiegherà l'illustre professore Locai, è un patrimonio dantesco di tutto riguardo, rimasto fino ad oggi inedito dimostrazione del culto di Dante nelle terre dell'antico ducato di Spoleto e non solo, e di come certi personaggi danteschi, tra cui Giustianino, Cacciaguida, Virgilio e la bella Francesca, così rinomati e amati oggi, lo fossero già allora sul finire del Medioevo, un canone di apprezzamento del capolavoro dantesco dal punto di vista estetico, etico e culturale, che ribadisce come l'Umbria all'epoca partecipasse fervidamente alla grande compagine tosco-fiorentina.